Ciao, benvenuti nel video dei preferiti seconda parte, se vi siete persi la prima parte ve la lascio qui sopra nella prima parte abbiamo parlato di prodotti non solo beauty e skin care dispositivi per la cura della pelle e del viso oggi qui parliamo di prodotti invece proprio di make up e pennelli da cui voglio iniziare subito vi ho già parlato di questo set di pennelli di Amazon che stavo testando per voi per darvi appunto una valida alternativa economica perché in tantissime me lo stavate chiedendo e questo set vi dico mi sta piacendo tantissimo costa meno di 10 euro avete sia pennelli occhi sia pennelli viso alcuni li vedete sporchi perché li ho utilizzati per fare il make up di oggi sono due settimane che li utilizzo ovvero non è tantissimo però onestamente li ho lavati più di quattro volte non hanno perso pelo non hanno perso colore fanno il loro dovere egregiamente l'unica cosa che vi ho fatto già notare se guardate i miei tutorial precedenti che vi lascio sempre qui nelle schedine potete vederli all'opera è questa l'unica cosa vedete ci sono dei peletti più lunghi sui pennelli viso ma ho provato in tutte le salse non vengono via è soltanto un errore proprio di fabbrica basta semplicemente tagliarli anche perché sono pochi e così non avete problemi io non li ho ancora tagliati perché appunto volevo farvi prima questo video recensione dove ero convinta di consigliarveli o meno e sinceramente a me piacciono molto trovo sia un ottimo set dato che costa così poco ed è così completo soprattutto se siete alle prime armi e volete effettivamente provare i vari tipi di pennelli cosa fanno cosa non fanno cosa vi può piacere cosa non vi può piacere sul viso prima di magari investire in qualcosa di più costoso questo è un ottimo punto di partenza semplicemente se volete spandere la vostra collezione ma anche se proprio il primo set di pennelli che acquistate secondo me è veramente ottimo ovviamente sia di questo set di pennelli che di tutte le altre cose che vi mostrerò nel video troverete giù per comodità tutti i link così sapete appunto dove poterli acquistare passiamo alle polveri viso ragazze ne ho diverse per diverse categorie io vi ho già accennato che mi stava piacendo tantissimo questa cipria e non mi sono ricreduta ragazzi questa è di paola p ed è la perfect baking powder nella colorazione 01 è una cipria molto 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 opaca molto opaca quindi se non avete una pelle grassa o comunque una zona t lucida molto lucida evitate perché è veramente super opaca però se appunto avete problemi di lucidità fantastica mi dura anche di più a livello proprio di effetto opaco della mia preferita di Kat Von D che è più costosa però è anche vero che qua avete più del doppio del prodotto come potete vedere l'unica cosa è che questa non vi consiglio di usarla nella zona perioculare per settare il correttore perché purtroppo tende a scurirlo leggermente sul fondotinta non si nota assolutamente mi piace tantissimo l'effetto sul viso la sto indossando anche adesso comunque oggi non posso parlare come al solito oggi però particolarmente perché quando sono appassionata dei prodotti c'è proprio da dirvi 3000 cose non voglio che il video sia lunghissimo quindi mi impappino da sola comunque mi fa questo effetto molto bello è leggera sul viso, è una polvere super sottile leggermente profumata ma una volta applicata non sentivi assolutamente più la profumazione e proprio mi fa una pelle liscia effetto porcellana e vi ripeto il matte mi dura leggermente un po' cioè l'effetto matte mi dura un po' in più rispetto a quella di Kat Von D prima che la mia pelle inzi a lucidarsi perché ragazzi è possibile fermare proprio il lucido della pelle però appunto con queste cipre ci aiutiamo a prolungarlo invece per esempio questa di Kat Von D non altera il colore del correttore anzi lo va un pochino a schiarire quindi è ottima veramente per questa zona qua se ovviamente non avete la pelle secca anche qua è ottima perché non scurisce a differenza di questa qua quindi io anche oggi ho applicato questa di Kat Von D nella zona perioculare anche al centro qua del naso dove volevo schiarire anche sul mento e poi su tutto il resto del viso questa di Paula P che ad esempio io qua questa zona delle guance che vada qua fino allo zigomo divento super super lucida anche sulla fronte e questa cipre è perfetta altre polveri viso ragazzi sono degli illuminanti questi sono di Catrice vi ho parlato già di questo che è lo 0,30 e oggi vi parlo anche dello 0,10 che è questo qua più chiaro lo 0,30 come vedete è un oro un pochino più caldo questo è un oro freddo più champagne ed è quello che sto indossando adesso come vedete stupendo questi non hanno glitter ve li ho fatti vedere anche su Instagram mi avete chiesto non hanno glitter fanno solo questo effetto super metallico io poi lo metto bello visibile che mi piace così soprattutto quando faccio i video quando ho un trucco un po' più carico ma per tutti i giorni se ne mettete poco poco non si nota nemmeno sembra proprio che sia la vostra pelle ad essere luminosa quindi li adoro sono super economici vi faccio vedere meglio i colori sbocciati per farvi capire anche l'effetto allora così ovviamente sono super carichi lo 0,30 sembra scuro in realtà anche su una pelle come la mia resta abbastanza chiaro un oro più pescato e questo è l'effetto una volta sfumati come vedete non hanno brillantini fanno solo l'effetto pelle luminosa mi sembra che c'è anche una terza colorazione comunque vi lascio giù i link così potete controllare passiamo all'argomento terra bronzing contouring che sapete è uno dei miei preferiti e ci tengo tantissimo perché se il contouring non è sfumato bene e se non mi dura tutto il giorno sono guai sono guai per fare il contouring sto amando questi due lo sapete già lo so però io avevo bisogno di farci un video e proprio di dirlo ufficialmente che sono i miei prodotti da contouring preferiti questo di Uda Beauty anche qua l'avete visto all'opera nei miei tutorial precedenti ve li lascio nelle schedine si apre così a parte il packaging super sleek fantastico il mio è nella tonalità light che è una colorazione neutra c'è anche la fair che è fredda e poi un'altra che non ricordo come si chiama che è più scura per me questa è perfetta ragazzi cioè è bellissimo sapete che questo prodotto ve l'ho fatto vedere anche su delle basi tipo mascherone si sfuma benissimo adesso io ho la pelle secca qua e ne ho applicato tanto cioè guardate non è l'ideale perché appunto ho la pelle secca però si sfuma con una facilità impressionante poi diventa quasi polvere sulla pelle non lo sentite più cremoso non fa strato si fissa dura tutto il giorno non vi crea nessun tipo di problema sia se lo mettete sulla pelle nuda senza primer sia che lo mettete su un fondotinta io l'avevo provato col fondotinta questo della Revolution che mi aveva fatto un effetto super mascherone cerone orribile e non avevo proprio speranza che questo prodotto in crema potesse sfumarsi sopra e si è sfumato con una facilità incredibile mi ha salvato la base veramente basta poco per fare il contouring io lo utilizzo anche sul naso sotto al mento ovunque ovunque è fantastico e come contouring in polvere Nars Laguna io ci sono arrivata dopo anni a questa terra è fantastica cioè merita la fama che ha è sporchissimo perché l'unica cosa che io veramente odio del packaging di Nars è che appunto è opaco è nero è stupendo appena lo acquistate ma poi dopo con l'utilizzo succede questo è impossibile da pulire però gliela perdoniamo perché poi il prodotto e anche la qualità del packaging lo specchio tutto è fantastica ecco qua questa è la Laguna classica c'è anche la versione matte onestamente questa non è che sia brillantinata no è tipo satinata mi piace di più ma proprio se devo fare una differenza alla fine è opaca sul viso però secondo me il fatto che sia leggermente satinata vi dà un effetto più naturale però oggettivamente ragazzi cioè è opaca cioè vedete ha proprio dei micro 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 delle micro perle ma proprio dovete vedere col microscopio vabbè scegliete voi quale utilizzare io la matte non l'ho mai provata però questa top fantastica e dulcis in fundo questa è una new entry mamma mia già conquistata la grande è fantastica la so indossando lo so che non è il termine giusto però ce l'ho sul viso anche adesso e questo è un bronzer quindi non per il contouring ma proprio per abbronzare creare questo effetto baciato dal sole sto correndo come una matte anche perché sta scaricando la batteria ma ne ho una di riserva questa è la butter bronzer famosissima di Physicians Formula che finalmente è disponibile anche in Italia l'ho acquistata anzi mi è stata regalata ma la potete acquistare sul sito di Machialia Beauty Italia guardate che bella è una terra matte super morbida super sfumabile cioè io la amo ha una bellissima profumazione dolce al cocco mi piace molto il packaging perché non si apre in borsa dovete praticamente premere qua si apre e in più dentro avete anche questo che è comodissimo per i ritocchi come vedete non l'ho ancora utilizzato perché dove cazzo vado in zona rossa comunque top per il bronzing si sfuma benissimo c'è veramente anche se vi truccate al buio di mattina con tutte queste terre sto ammazzando con tutte queste terre in realtà potete truccarvi al buio la mattina perché tanto si sfumano and last but not the least dolci si infondo concludiamo con un prodotto che io sotto sotto speravo non mi sarebbe più piaciuto e invece allora vi faccio vedere lo scovolino questo è il mascara Monsieur Big di Monsieur Monsieur Big c'è una parola in francese e una in inglese il mio cervello va in confusione eccolo qua uno scovolino a spazzola la prima volta che l'ho usato troverete il link al video qui sopra la prima volta che l'ho usato ho avuto una buona impressione però vi ho detto ho bisogno di usarlo quando sarà più asciutto per rendermi effettivamente conto ragazze non ha deluso non ha deluso per niente lo sto indossando anche adesso però sono molto truccata e ho l'eyeliner e tutto quindi secondo me non rende tantissimo vi metterò una clip in cui non indosso ombretti raga allora io non so come fa questo mascara ma mi caccia ciglia che io non pensavo nemmeno di avere cioè veramente me le volumizza tantissimo me le infoltisce l'unica cosa allora fa effetto ciglia finte super ciglia e a me piace per questo quindi non è un mascara che utilizzerei per tutti i giorni anche se con una passata può andare l'unica cosa che non mi piace è che tende a fare un po' i grumi quindi una cosa che voglio provare a fare è comprare quell'applicatore che sto vedendo tanto in giro quel pettinino metallico per pettinare le ciglia secondo me con quello cioè proprio sarà top perché l'unica cosa che un po' mi infastidisce sono i grumetti ma io lo amo veramente mi fa sembrare che ho le ciglia moltiplicate super nere a me piace rada mi piace tantissimo e onestamente ve lo consiglio cioè veramente sta diventando il mio mascara preferito tra tutti quelli di cui vi ho parlato bene anche più del super hero sì più del super hero di it cosmetics mi sta piacendo un botto bene siamo arrivati alla fine di questo video spero vi sia piaciuto se così lasciatevi un like voglio sapere se voi avete provato alcuni di questi prodotti o se li proverete o se basandovi su quello che mi piace potete consigliarmi qualcosa che magari pensate mi possa piacere perché io mi fido tantissimo come vi dico sempre dei vostri suggerimenti perché ragazzi siete fenomenali io vi mando un bacio grande e noi ci vediamo presso in un prossimo video anche su instagram ciao ripartiamo questa ciclipria ma che oggi cioè potete potete ripor veramente potete ostia basandomi basandomi ciao 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 Grazie a tutti.